Conviene spostare Ethereum in Bitcoin, grafico Bitcoin, grafico Ethereum, grafico Total Market Cap, Solana, Cardano, vedremo una serie di grafici e come al solito non faremo previsioni da mago ma semplicemente analizzeremo lo storico. Se questo ti sembra interessante lasciami un bel like ed iscriviti al canale che è completamente gratuito, attiva la campanella, non si paga nulla e ti arrivano anche le notifiche. Prima però di passare a questo volevo leggervi semplicemente tre eventi in questa settimana che potrebbero far muovere il prezzo di alcune altcoin. La prima è che il processo contro Sam Beckman-Fried si sta avvicinando alle fasi finali, sebbene un'eventuale smentita della procura potrebbe prolungare le udienze anche alla prossima settimana. In ogni caso questa udienza è davvero pesante sia per quanto riguarda le altcoin che proprio per il settore delle criptovalute. Per me però si andrà avanti ancora per molto. La seconda news è il lancio della mainnet di Celestia. Perché è importante questo? Se mi seguite lo sapete avrete probabilmente preso l'airdrop e quindi magari per una possibile vendita di questo token. In ogni caso Celestia non è male, non l'ho approfondita, l'ho vista un po' in grandi linee, ma potrebbe essere un ottimo progetto. Nessun consiglio finanziario, devo ancora approfondirla meglio. In ogni caso attenzione a questa mainnet. Gli osservatori hanno notato una scadenza del 31 di ottobre sul repository di GitHub del progetto, indicando quindi un possibile lancio questa settimana. Ma questa solo speculazione non è ancora nulla di confermato. Per quanto riguarda invece Solana, attenzione Solana che poi naturalmente vedremo il grafico, ma allo stesso tempo si sta muovendo davvero bene, ve lo dico da queste estate, ve lo sto dicendo da queste estate, l'evento annuale, in questo caso Breakpoint di Solana, si terrà fra il 30 ottobre e il 3 novembre ad Amsterdam. Parteciperà il CEO, Anatoly Iacovenko, e parteciperanno anche altre aziende importantissime come Stripe, ad esempio, e Visa. Solitamente ogni volta che c'è questo evento danno degli annunci importanti che fanno muovere il prezzo proprio del token Sol. Quindi attenzione, ancora una volta lo dico, a Solana. E adesso andiamo a vedere tutti i grafici. Vogliamo partire da Ethereum e Bitcoin, perché molti dicono che Ethereum sta performando male, molti dicono che Ethereum non è più buono, molti dicono che è meglio spostarsi in Bitcoin. Ora, naturalmente, noi non facciamo i maghi, quindi non ci serve il pendolino, non ci serve il cappello. E vi dimostro quello che è successo. Semplicemente, questa era una trendline che stava seguendo Ethereum, questo è il grafico Ethereum contro Bitcoin settimanale, quindi ogni candelare una settimana, quindi consideratelo lungo, l'abbiamo rotta al ribasso e il prezzo di Ethereum è sceso rispetto a Bitcoin. Quindi, vedete, questa è la curva che ha fatto. E naturalmente, siccome, come detto, sono dei periodi molto lunghi, qui parliamo da agosto del 2022, naturalmente molte persone dicono, perché prendere Ethereum se Bitcoin performa meglio? E questo direi, sì, è vero, naturalmente, per chi avesse preso questa move, probabilmente, per chi avesse previsto questa move, probabilmente era meglio detenere Bitcoin rispetto a Ethereum. Ma allo stesso tempo, ragazzi, adesso vi tiro un'altra trendline, vi tiro, sembra come una minaccia, eccola qua, ve la metto qua su, ragazzi, guardate questa trendline, invece, di lungo periodo, che parte addirittura da dicembre del 2016, non stiamo parlando di due settimane fa, e questa è una trendline ascendente. Questo che cosa significa? Significa che dal dicembre del 2016 è sempre stato più conveniente avere Ethereum rispetto a Bitcoin. E questa non è un'opinione personale, è un dato di fatto, vedete questo grafico? Quindi, fin tanto che non c'è un'eventuale rottura di questa trendline, fin quando che non si inverte questo trend, ma neanche la rottura, proprio fin quando non avviene un'inversione di trend, fino a prova contraria, trend is your friend. Quindi, Ethereum dovrebbe continuare a performare meglio di Bitcoin, questo per il lungo termine, sebbene per il breve potrebbe non essere sempre così. Inoltre, se qui adesso, se riuscite a vederlo, perché c'è il mio viso che non so dove sarà messo, quando sarà, in ogni caso, questa trendline che ho tracciato, questa è la trendline sull'RSI. Ogni volta che abbiamo toccato questo punto, a livello storico, quindi questa trendline, l'abbiamo toccata qui, l'abbiamo toccata qui, e l'abbiamo ritoccata adesso, guardate il prezzo di Ethereum rispetto a Bitcoin, che cosa ha fatto. E' successo qui? E' successo qui, guardate qui ragazzi, pure qui, da qui, dal suo minimo al suo top, c'è stato un 420% di performance migliori rispetto a Bitcoin, e il 23 di ottobre abbiamo ritoccato la stessa trendline. Anche qui, fino a prova contraria, mi aspetto che possa avvenire lo stesso. Come detto, non si parla da oggi a domani, ma si parla di medio termine, medio avanzato, ok? Passatemi il termine, spero abbiate capito. Quindi, finché questo non viene rotto, non viene invalidato, per quanto riguarda, resta tutto così. Quindi niente speculazioni, niente pendolini magici. Se andiamo a vedere il prezzo di Ethereum contro dollaro, in questo momento si trova a 1820 dollari, e qui si trova in tutta quest'area, che è una zona molto importante. Naturalmente galleggiare qua sopra sarebbe preferibile, ma vi ricordo che anche qui probabilmente stiamo attendendo un catalizzatore, che arriverà forse fra un pochino di tempo, che è anche in questo caso l'ETF spot su Ethereum, perché non ci scordiamo che sono state richieste anche delle approvazioni per quanto riguarda l'ETF spot di Ethereum. Fate sempre quindi molta attenzione. Quando vi dicono di fare uno spostamento, di switchare tutto, voi naturalmente avete la vostra analisi, bilanciando il rischio, naturalmente vi dovete sapere che Ethereum è più rischioso rispetto a Bitcoin, ma nello stesso tempo, se voi avete già fatto un piano in precedenza, i grafici mi dicono di stare assolutamente tranquillo, fin quando non avviene un qualcosa che mi possa far cambiare idea. In questo momento non è assolutamente avvenuto ciò. Per quanto riguarda l'RSI, in questo caso, anche qui, come vediamo, sono dei minimi sempre decrescenti, e come vedete, ogni volta che abbiamo raggiunto il minimo, il prezzo di Ethereum, guardate che cosa ha fatto, qui ha preso ed è risalito fino a toccare i massimi, e adesso qui è risceso, parliamo sempre di giugno 2022, e adesso si trova a metà. Quando dovesse rifare, ripercorrere questo andamento che ha avuto in passato, sebbene come vedete, sono passati diversi periodi, qui parliamo di tre anni da qui a qui, ma guardate il prezzo di Ethereum, quello che ha fatto, cioè guardate quanto è salito. Quindi anche in questo caso, fino a prova contraria, mi aspetto che avvenga è la stessa identica cosa. Adesso, prima di passare a Bitcoin, vediamo un attimino il grafico di Solana che si trova a 34,80, Solana sta andando davvero bene, guardate che forza che ha avuto l'ultimo periodo, ma non è ancora detto nulla, non è ancora successo nulla, diciamo così. In questo momento abbiamo rotto questa resistenza, che era davvero una resistenza importante, ci troviamo al di sopra, ma bisogna dare continuità. Qualora dovessimo rompere addirittura quest'altra, potrebbe scatenarsi addirittura un'ondata di short squeeze che potrebbe far volare il prezzo di Solana fino addirittura ai 70 dollari, ma naturalmente è presto per dirlo. Viceversa, se non dovesse farcela, a ogni caso, speriamo in questo supporto dei 31, dei 30 dollari, all'incirca, questa è tutta una zona perché arriva pure qua a 29, quindi se la considera anche questa qui, tutta tutta zona, quindi potremmo tranquillamente fare un movimento di questo tipo per poi tentare un nuovo assalto. Attenzione a Solana, ve lo continuo a ripetere. Grafico di Cardano, questo rispetto a quello ci siamo detto la scorsa volta non è cambiato di molto, infatti anche qui grafico settimanale, vi faccio del grafico sempre settimanale in questi momenti ragazzi perché è inutile che vi facciate il grafico da oggi al domani che è sporco, invece in questo caso sono dei grafici più di lunga data, e qui abbiamo rotto questa trendline che ci portavamo ad agosto del 2021, trendline discendente e abbiamo rotto al rialzo. Ora però ci troviamo due forti resistenze, questa dei 30-31 centesimi di dollaro e poi quest'altra ancora più forte dei 43-44 centesimi di dollaro, questa è quella più ostica da rompere. Naturalmente rompere questa resistenza significherebbe vedere una possibile inversione di trend da parte di Cardano. Quindi in questo caso dobbiamo attendere la prima prima di poter gioire e poi attendere la seconda. Ma come detto se Cardano non dovesse farcela adesso, magari anche non subito, magari prendendo un pochino di forza per poi riprovarci, in ogni caso non so più quando effettivamente potrebbe riuscirci perché questo potrebbe essere naturalmente uno dei momenti migliori. Anche l'RSI è sufficientemente scarico per quanto riguarda Cardano, sebbene qui non ci siano importanti segnali da questo indicatore per quanto riguarda questa criptovaluta, però ecco potrebbero essere davvero dei periodi interessanti se credete in Cardano, in pratica quasi ora o mai più. Adesso per quanto riguarda Bitcoin, andiamo a vedere un attimino Bitcoin come siamo messi, Bitcoin siamo messi a 34.560 dollari e qui ci troviamo in una forte zona di resistenza che come vedete ci ha fatto da resistenza diverse volte o da supporto qui vedete tutta questa zona tutta questa zona tutta questa zona quindi a seconda di se ci troviamo sotto sotto era un supporto o una resistenza questa è una zona davvero importante per quanto riguarda Bitcoin perché una move di prezzo al rialzo potrebbe portare Bitcoin addirittura a toccare nuovamente i 48.000 dollari anche qui grafico giornaliero ma parliamo di periodi lunghi quindi magari mettiamo il grafico mensile che probabilmente è un po' più chiaro il grafico mensile su Bitcoin come vedete non è successo in realtà ancora nulla per cosa perché la candela si chiuderà oggi che è l'ultimo giorno del mese ma sarà importante anche la candela del mese successivo anche perché si potrebbe scatenare addirittura un'ondata ulteriore di short squeeze che potrebbe riportare il prezzo di Bitcoin a galleggiare in questa fascia diciamo e non sarebbe per nulla malvagio questo invece è il grafico della dominance di Bitcoin Bitcoin si trova al 54% di dominance significa che il 54% di soldi che sono all'interno del settore delle criptovalute si trovano all'interno di Bitcoin e qui si trova a dover superare una zona di resistenza davvero importante guardate qui che zona che ci ha fatto talvolta da supporto talvolta da resistenza quindi per vedere una dominance salire dovrebbe naturalmente rompere al rialzo potrebbe essere potrebbe avvenire questo sì sebbene se andiamo a vedere a livello di puro trading andiamo a vedere che questo è un pattern che assolutamente poi quando c'è una rottura c'è una rottura bearish una rottura al ribasso se andiamo a vedere un RSI che si trova in questo momento in zona di ipercomprato ipervalutato diciamo così io quindi è più probabile che mi aspetto un ritracciamento che non sarebbe assolutamente negativo qualora dovesse tenere la total market cap o addirittura salire perché in questo caso significherebbe che i soldi si stanno spostando da bitcoin al coin ma perché vi ho fatto vedere questo grafico beh semplicemente perché in questo caso una total market cap con una possibile rottura al rialzo con una dominance che potrebbe ritracciare in questo caso al ribasso e con un grafico di ethereum contro bitcoin che come detto sul lungo termine mi sembra in un trend crescente così come l'rsi è 1 più 1 più 1 più 1 mi fa pensare che in questo momento convenga comunque sia continuare a detenere ethereum rispetto a bitcoin questo chiaramente non significa solamente all in su ethereum ma fin tanto che non viene smettito un qualcosa io questo è quello che ci vedo sei d'accordo con la mia analisi fammela sapere qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video se ti è piaciuto un pollicione grazie a tutti grazie a tutti